Il vino per noi è famiglia. Fa parte della tradizione Elena Weich da cinque generazioni e per questo lo rispettiamo, lo curiamo e lo proteggiamo. Sento che alla mia terra devo cura e rispetto, è bellissima e che solo così i suoi frutti possono donarci vini capaci di percorrere strade importanti. Solo così una visione innovativa si è tradotta nell'attenzione al più piccolo dettaglio, nel rispetto del paesaggio e della terra, nel desiderio di un'evoluzione consapevole dei valori della tradizione. Per me il vino è sempre stato ed è tuttora una passione, un viaggio tanto imprevedibile quanto incredibilmente affascinante. Il vigneto ripido della vigna Castelazza Tramin e quello più dolce, colinare, della vigna Castelrimperca Caldaro sono i nostri gioielli ed è qui che inizia il nostro percorso. Un viaggio che ha sempre come meta la produzione di vini che esprimono la forza della determinazione, la particolarità del luogo, la leggerezza dell'intuito e l'unicità che diventa una grande storia da raccontare. Nel bicchiere portiamo l'impegno della sostenibilità, l'eleganza di una visione senza confini, l'equilibrio perfetto di un talento che si coltiva con arte, pazienza e infinita gioia. Questi nostri vini e le Navarri sono frutto di una storia al femminile che le mie figlie Giulia e Caroline continuano e continueranno a raccontare. Ho visto crescere in loro la loro vocazione, la curiosità e la passione ed ora sono loro a cogliere il valore dei dettagli che pretende cura e attenzione. Grazie per la visione!